Ore frenetiche per gli ultimi acquisti prima di rientrare a casa per la cena della vigilia. Il Corso Vittorio Emanuele di Salerno si presentava così questa mattina con tante persone ancora alle prese con l'acquisto dell'ultimo regalo da mettere sotto l'albero ma per tanti l'occasione di scambiarsi gli auguri con il tradizionale aperitivo della vigilia messo a dura prova negli ultimi due anni a causa della pandemia. Non solo doni da comprare ma anche buon cibo da mettere a tavola per festeggiare il Natale insieme a parenti ed amici. La tradizione vuole che per la cena del 24 dicembre sia il pesce il protagonista della tavola. La crisi energetica ha comunque parzialmente modificato gli acquisti e consumi magari preparando piatti più semplici per una vigilia di Natale che vuole soprattutto riscoprire il valore della tradizione dello stare insieme. Tanti turisti che hanno scelto la città di Salerno per trascorrere questi giorni di festa in tanti hanno raggiunto parenti optando per l'ospitalità o pranzo e cena al ristorante. Sì sì sicuramente si vive in maniera diversa per noi è anche lontano dalla nostra terra natale siamo toscani e ci troviamo qui. Mia figlia lavora e io sono venuto a trovare mia figlia. Quindi in vacanza per questi giorni di Natale? Sicuramente in vacanza. Lei invece lavora. Che cosa ha apprezzato quest'anno della città di Salerno? Salerno è una città accogliente molto calorosa piena di gente positiva. Come trascorrerà questo questa vigilia di Natale? A cena? Già tutto pronto? Fornelli? Ora no ora facciamo. Ci può svelare il menù? Non lo so non lo so perché ci penserà lei mi aiuterà lei ancora dobbiamo iniziare. Già pensato al menù in ogni caso? Pesce direi pesce anche perché cos'altro si può fare qua? È buonissimo. Come lo cucinerai? Al forno al forno e il sugo al tonno come primo. La mezzanotte si attende in strada? Si va a messa? Che cosa si fa? A messa. A messa. È sempre lo stesso. Anche lontano dalla pandemia lo sta vivendo in maniera diversa? Sì sì purtroppo sì. Come passerà questa giornata? A passeggio. Per la cena invece? A casa di amici. Quindi non conosce ancora il menù? No. Lei già si è messa ai fornelli? Sì sì ma ancora devo continuare infatti stiamo correndo correndo correndo. Qual è il menù della sua vigilia? Spaghetti con le vongole classico tradizionale, un po' di baccalà, due broccoli e passa anche questa santa vigilia. Si rinuncia alla frittura? Sì sì ma per questioni di tempo. Regali già tutti a completo? Stiamo correndo per questo. Quest'anno un po' impreparata come mai? Sì per il tempo e il lavoro, impegni di lavoro. Grazie e tanti auguri arrivi. Pronta, abbastanza pronta devo dire in famiglia. Ovviamente sono rientrati i miei figli che studiano fuori quindi sarà un bel Natale. Sarà dedicata ai fornelli dunque? Purtroppo sì. Menù possiamo svelare o non ancora? Ma tutto sommato sì. Ovviamente il menù tradizionale per cui astice, scialatine e frutti di mare, la prima volta che li faccio vediamo che succede e poi solito baccalà fritto, un po' di frittura, insalata di rinforzo. C'è un clima diverso per lei per questo Natale? Diciamo che è un momento difficile. Penso che molte speranze insomma di tutti noi sono state disattese. La pandemia ci aspettavamo una risoluzione, è arrivata la guerra, ci sono molte persone in difficoltà. Quindi credo che nonostante le condizioni specifiche c'è una sorta di preoccupazione rispetto a quello che può essere il 2023. Quindi penso che ci sono molte aspettative. Un po' lontani dal festeggiare il Natale, quello dell'infanzia? Eh sì, molto lontani per tante cose perché è diventato un modo in cui io per prima siamo sul consumare, anche le emozioni, non solo il pratico.